Buongiorno e benvenuti a Nardò. Oggi siamo al centro di questa bella cittadina per presentarvi in vendita un'abitazione caratteristica composta da due stanze con volta stella e una stanza con volta a botte. Si sviluppa interamente al pieno terra. Andiamo a vederla. Siamo arrivati, entriamo a vedere l'interno dell'abitazione insieme a Stefano. Buongiorno Sara, buongiorno amici di Mondo Immobiliare. Sì, siamo arrivati qui a Nardò, una delle città più belle del Salento che dobbiamo dire di questa casa. È una casa che la caratterizza in tutto e per tutto, dalle sue volte a stella e la sua volte a botte. È molto raro in questo contesto. Beh, che cosa dire? È una struttura sicuramente di profilo turistico, visto la bellezza della città e abbiamo questo ambiente che può essere la zona giorno di questa struttura e poi gli ambienti ritrostati che adesso dobbiamo vedere possono rappresentare quella che è la zona monta con due camere da letto. Una nella volta che ci ritroviamo in questo ambiente, poi nella parte ricostante abbiamo ancora un bagno e un'altra piccola stanza che si affaccia in un pozzo luce, quindi abbiamo anche un'illuminazione naturale. E poi abbiamo il reparto per poter fare una bella cucina, lì dove c'è la volta a botte. Una volta coperta da un cielo appeso, ben accessibile, ben attrezzato e l'ambiente è abbastanza caratteristico anche per poter creare una cucina di stile mediterraneo. Venite a trovarci e vedere questa casa che è un sicuro investimento. Ciao a tutti!